Uberto resta Pallavicino, imprenditore agricolo e fondatore Rete Imprese Blum Artesana. Innanzitutto cos'è Rete Imprese Blum Artesana? Allora, la Rete Imprese Blum Artesana è l'idea di sottoporre un più largo spazio territoriale che non si limita alla semplice azienda agricola ma si allarga a tutti i vicini per dare al territorio un'uniformità di immagine, di manutenzione, di gestione e dimensione. Cosa voglio dire? È come un brand, è come parlare del Chianti, è come vedere un'area avvitata. Quando si è nelle nostre campagne ci sono tante differenze, chi pianta gli alberi, chi non, chi mette le sbarre, chi non, eccetera eccetera. Noi abbiamo pensato invece che una certa parte del territorio se aveva un'uniformità gestionale aveva anche una qualifica estetica, oltremodo poi aveva una dimensione economica perché oggi ci sono attori come la Barilla, attori industriali che quando si approcciano al mercato secondo me avrebbe molto più senso che vi fossero pochi attori e quindi un'offerta di pochi rispetto a pochi compratori che abbiano però una gestione uniforme del mercato delle produzioni quindi con la disponibilità di territori più vasti e sotto una certa anche amministrazione che rispetta le loro stesse esigenze. Quindi appunto parliamo di gestione agricola che rispetta i criteri benefit e che ha un certo costo di gestione perché la sua gestione è appunto guidata dall'attività e dalla raccolta dati che ti permettono di efficientare i vari processi. Oggi parliamo di dati e di sostenibilità, perché questo binomio oggi sembra inscindibile? Perché rispetto a quello che era un obiettivo di gestione pensavamo che buttare più diserbanti quindi più buttare più fertilizzanti e uso proprio la parola buttare perché non qualificata dalla gestione di nessuna misura ci desse un maggior risultato. Nel momento in cui invece noi gestiamo i dati utilizziamo diserbanti, utilizziamo fertilizzanti nella quantità e nella maniera che è richiesta effettivamente per ottimizzare il valore di produzione. Quindi tra buttare e utilizzare c'è di mezzo la parola quantità che è da essere misurata. Ecco un altro aspetto, ovviamente big data, analytics sono fondamentali però oggi abbiamo parlato anche di sensoristica. Quindi una tecnologia come l'internet of things, l'internet delle cose, che ruolo gioca? Gioco un ruolo fondamentale. Parlo del nostro ultimo progetto che è quello appunto di andare a rendere irrigabile attraverso una fertilizzazione di una rete subterranea per circa 180 ettari un certo territorio. Questo per essere svolto in maniera effettiva deve essere anche in questo caso misurato e gestito nel momento in cui ce ne sia la necessità. Quindi l'internet of things e i sensori mi permettono di avere il controllo costante dell'umidità del terreno a 40 centimetri fino a 40 centimetri di profondità e su questo attivare le pompe che da un punto di partenza di raccolta di acque reflue che vengono determinate da un allevamento lattiero caseario possano essere distribuite senza che i terreni siano schiacciati da botti e trattori e senza disperdere numero di ore infinite di operatori sul trattore che potrebbero invece utilizzare altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.